No perché li faccio io, diventano rari, sono visti con i miei occhi, i miei occhi sono singolari, ecco perché la rarità è frutto di una singolarità, è un po' uno scherzo ma è una realtà. Rarissimi paesaggi I biani che volano sopra le dighe, alberi mossi lentamente dal vento sulle dune frastagliate di Malamocco, un vaporetto, un faro all'imbrunire, il tutto colorato e interpretato con straordinaria suggestione alla singolare rappresentazione di particolari dipinti con minuziosa precisione e lucidità visiva. E fra i volti noti presenti alla serata abbiamo incontrato Maria Grazia Turco, collega e amica di Andreone. Quindi è molto bello anche rivedere questi nostri spazi dipinti in maniera così precisa, così ottocentesca, con una qualità di tecnica e una precisione di pittura e di pennello che Renzo è riuscito a creare sui suoi quadri e a costruire queste bellissime, piccolissime opere che sono i suoi ultimi quadri. In questa mostra a rarissimi paesaggi Renzo Andreon ci espone i suoi lavori con un approccio personale che attraversa gli animi di chi osserva con gusto, stile e raffinatezza propri del vero artista.